Prima che io inizi a fare 20 misplay per ogni turno Ladies and gentlemen Galakrond Rogue Galak Come il latte Un altro warrior Chat ve lo dico A mezzanotte giocherò già a qualcosa A mezzanotte continuerò Bioshock ve lo dico A mezzanotte continuerò Bioshock ve lo dico Ma il Lightforge pala Il cosa? Adoro il vento in poppa In verità sponsorizzo la Burn E' avanti nella storia Vedono che il beniamino del canale e il Totodillo si convincono definitivamente Anzi ti danno più soldi Non vedo perché mettere questo DLC Totalmente a caso Chat lo vedete anche voi o ho le traveccole io? Qua Guardate qua dove sto battendo col mouse Blizzard Cosa Cosa stai facendo? Ci sono le emote nella sabbia? Cos'è? Comunque lui che turno ha fatto Comunque lui che partenza ha fatto chat Town Cryer Moneta Town Cryer Come facciamo a vincere noi adesso? Ecco appunto Minchia il maniaco devoto Ma Sono quasi dispiaciuto di giocare sta carta Perché volevo continuare a usare sto Ah posso usarlo su questo E' buggato anche questo Che figata E' buggato anche questo lol Tu? C'è qualcosa da dirmi? No Tu sei silenzioso Tu pure La keyword la che è proprio importantissima Col secondo strillone non ha pescato niente Si è invocato due volte Rotto di Gesù Abbiamo invocato due volte Sangue e bottino Porca troia Porca troia Nessuna tomba può imprigionarmi Sono vivo Nessuna tomba può imprigionarmi Lode a Galacrond L'ho fatto senza motivo L'ho fatto tanto per giocare in curva Tanto per avere un lacche Tanto per non sprecare mana Questa mano E' stranissima Credo che sia una delle peggiore Che possono capitare con questo deck Oh my god lord Come stai? Tu ha brutte intenzioni Anch'io Tu ha brutte intenzioni anch'io Salve 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 Un tocco nel vuoto Spell power Va bene Ciao lord come stai? Hai giocato anche tu? Hai sbustato? Come è andata la sbustata? Innanzitutto cosa stai giocando? Tutto bene Bello Si mantiene questa top 50 Con un ucchio e coi denti Dai Cosa stai giocando man? Hai sbustato bene? 100 pack 7 leggendari Una golden Sbustato No vabbè E' andata bene Pronto Tailander Mage Galakrond Rogue Questa è la mia prima di Galakrond Rogue Ed è già Abominevole Onestamente Non posso aspettare C'ho veramente una mano terribile Veramente ho preso Ingegnera Novizia? Spero ti piaccia la mia invenzione Prendo il bottino Io boh non so che cazzo Cosa ho fatto di male? Pescavi così in top 50 Lord? Tu pescavi così? Mano peggiore del deck E dico ormai sono coppie iconiche Pow Ciao palla Come stai? Grazie per i 21 Chat 120 sub Oggi Ma cazzo vi devo dire? Grazie Gatto del faraone La madonna Ma che mano è? Cosa molla in ventola? Chi ha bisogno di acqua? Io avrei bisogno di acqua Io avrei bisogno di acqua Per diluire le bestemmie Che mi stanno venendo in mente In questo momento Mamma mia Merito degli sponsor Quanti soldi Mamma mia Quanti soldi Finalmente Red Bull La bella vita Dopo anni Anni di streaming gratis Finalmente Si vive nella bambagia Non c'era Un singolo top deck Peggiore di prep Ma cosa sta succedendo? Potere Ok Allora Ok Bu... Bu... E' sempre un mio! E' sempre un po' di più! Per uscrita spanisha! Stai vivendo! E' sempre un po' di più! Andela! il bello è che io non posso perdere capito quindi cioè posso anche continuare a non pescare niente di niente vinco letteralmente facendo un lacchè a turno è più che sufficiente per tenerlo a bada però porca puttana oh allora esisti cazzo ah dai madonna bello vero tuorio non male ho vinto più del previsto perché soffio del dragon warlock che veramente sposta le partite e adesso sto provando questo qua adesso sto provando questo qua non ho il coin quindi buttiamolo via cubo come va come a me ha sto mazzo se giocando a gara con un drogo ho vinto sei partite su otto ho giocato a gara con un solo una volta ci sono già mazzi carini cubo certo tanto ci sono sempre mazzi carini primo giorno carini ho fatto una partita con il frizzabombe mi ha dato un dragon druide della minchia mi ha fatto ricordare perché non giocavo a casse da due anni merita questo rogue in mano a qualcun altro sicuramente si sicuramente si in mano a qualcun altro uova di scarabeo quindi questo è uno zoo vecchio stile è uno zoo che tra l'altro mi crea anche dei problemi cosa devo fare chat ditemi voi cosa cazzo devo fare vorrei non giocarlo come faccio a non giocarlo dai lo gioco c'ha pure reborn sta roba le carte tutte le sue carte costano unico è una roba schifosa ma l'alternativa qua era fare i raw power passo o tempo edwin io anziché fare tempo edwin concedo non ci sono problemi guarda lui fa la sua giga power play io faccio la mia poi se lui c'ha anche la uno mana distruggi tutto pazienza wow io ne approfitto tantissimo avete sentito qual è la linea di attacco di questa carta che avarizia perché è ridicolo che tu la giochi e se la giochi è ridicolo che ci attacchi perché vuol dire che lui neanche te l'ha tolta quindi che avarizia è una critica al giocatore sia a chi l'ha giocata che a chi ce l'ha contro capito big smart asura puoi passarmi una lista no non giocherò mai liste vostre figa che turno che avarizia e fallo sto più uno più uno madonna fallo quasi finito il tempo condividete i vostri averi cosa vuole spettola armatura rontalmente porca buttana un'altra «femma» non ci sia non ci sia un'altra non ci sia un'altra non ci sia Pure l'armor Capito? Gli è uscito Perché la mia unica strada qua era andare in testa Gli è uscito l'armor, per Dio Per Dio Però vabbè, dai, vediamo Luca, mi consigli di shardare il 5-5 dello shaman? Punto esclamativo craft, Luca Te lo dedico col cuore Caduta libera Vediamo Io sono rimasto con un dubbio atroce Correggimi se sbaglio Ma lo scopo dell'Albatross Prist E mettere quanti cuceli possibili nel mazzo del tuo avversario Ma è legale? Vabbè, Red Bull, certo Cioè, il punto è non farlo giocare Chat Solo quella? No, 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 no Per carità Ce n'è di materiale da quello di stasera Però È un priest Sarei quasi tentato di tenermi Eviscerit Però vediamo Oruk, ma teoricamente Io lo pagherei per quello Ma lei non c'ha voglia Quindi Ciao Yasuo Cosa hai trovato? Perché proprio la merda Non è vero Yasuo Io sono estremamente bravo a sbustare Sta cosa di fare un intero step di Galakrond Con un solo invoke Comunque questo è proprio un bug della keyword Non aveva a che fare con il game Vedete che continua ad esserci la key Guardate qua La tua fortuna finisce con le buste Aramils Prima partita Raga, abbiamo vinto Abbiamo vinto Non trova Deathwing Da Alextraza Alextraza Deathwing Poi abbiamo vinto lo stesso Però Intanto Giusto? Oh my god Griglia Di solito sono sculato assai Sto giro una madonna di dorate solo Utili? Dio Me la porti un po' di fortuna Veste ultime Griglia Best of luck to you my friend Ci ho creduto tanto in questa roba Dai Dai che è andata bene Ok Quindi scusami Io avrei sei monete Ti piace giocare col fuoco? Ma quanto sei stronzo Figa Chi è che gioca Silence? Il primo giorno del nuovo set Anzi Alla quarta ora del nuovo set Giochi veramente Giochi veramente Control Priest Con Silence Figa Dai ma raga Ma dai raga Ma lol Sono depresso adesso Cazzo Cazzo Alponzo Grazie per il subgift Beccu frasco Welcome to the family Male e divertente Male e divertente Amazing La vita è solo un ripensamento La vita è solo un ripensamento Whatever that means Abbiamo perso Chat Lui non ha niente in mano Fammi pensare Do you think we lost? Cos I think we lost So what I'm gonna do So this is what I'm gonna do Rimbalzati lo squalo Che schifo se devo rimbalzarmi lo squalo Guarda Riferisco a perdere Un bocconcino Niente pause Niente pause Niente pause Però ti piace la mia invenzione Esattamente quello che volevo pescare a zero Comunque Novice engineer Allora chat Secondo me E' lethal Allora chat Secondo me E' lethal Mega male Mega male E' lethal 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 E' lethal